Il problema è che noi ad esempio che viviamo nel piano di zona Montestallonara, la procura lì sospetta ormai da anni, c'è un'indagine in corso, da tre anni e mezzo all'incirca, sospetta che le case siano state costruite su rifiuti. Io mi chiedo, punto primo, com'è possibile che qualcuno abbia dato autorizzazione a costruire nuove edificazioni perché le aree fuori sono ex abusivi e comunque secondo me se io fossi un buon amministratore e sapessi che là sotto ci sono ex abusivi, magari condonati, ma hanno costruito su rifiuti, io da un buon amministratore locale, comunale, regionale non mi interessa chi sta tale, non mi interessa direi a quella gente che se ne deve andare. Da là, perché i luoghi lì non sono salubri secondo me, lì è un dramma totale, dimenticati dal mondo, hanno deciso di farci morire lì, io non lo dico perché sono disperata, non devo far pena a nessuno, voglio solo che lì sia fatta giustizia per il danno e per i danni che hanno causato prima e che stanno continuando a causare alla popolazione. Ciao!